Tra un concerto, e l'altro anche i cantanti napoletani si sono concessi un po' di relax I D'Alessio mentre? Questa l'ha scritta apparsa sotto una foto pubblicata da Gigi D'Alessio su Instagram, a conferma del fatto che Gigi ha deciso di passare le vacanze in famiglia insieme ai suoi figli Nino D'Angelo invece ha preferito rilassarsi al mare mentre aspetta di esibirsi in concerto il 13 agosto a Gaeta Il cantautore e attore napoletano ha festeggiato ieri il compleanno di sua moglie Anna Maria, e ieri l'altro il suo onomastico, postando numerose foto sui social Dovremmo avere tutti una vita vista mare. È questo quanto si legge sotto la foto postata su Instagram da Franco Ricciardi, il quale ha passato gli ultimi giorni in compagnia di Ivan Granatino, e di suo figlio Salvo, festeggiando insieme a lui l'onomastico qualche giorno fa Se invece nei giorni scorsi Rocco Unzi era fatto fotografare mentre passava dei momenti di relax insieme al suo nipotino, I.E.R.I. Il rapper napoletano ha invece deciso di svegliarsi presto per andare a pesca, postando la foto sui social I.E.R.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.P.